Lei mi ha raccontato prima della gara una verità, me lo permette Presidente, e forse una bugia, la verità è quella che siete venuti qui per giocare la vostra gara, la seconda 5-6 innesti per essere competitivi, ma vista la gara di oggi Presidente forse 6 sono esagerati perché la squadra ha giocato un secondo tempo sopra le righe. Beh però quando un Presidente ambizioso vuole fare un grande Avezzano cerca sempre ovviamente di lavorare in tal senso. Quello che avevo promesso in settimana all'ambiente era che in caso di risultato positivo oggi contro il Chieti e positivo anche il pareggio avrei riconfermato il mister Torti e il direttore sportivo Ridolfi per la stagione prossima. Allora è stata la seconda e ultima domanda fatta in diretta, mister Torti e lui mi ha detto come fanno tutti i mister dovete chiedere alle società, a questo punto la risposta è arrivata in diretta, noi tramite Mario Giacchetta registriamo il tutto e poi la mandiamo a casa Torti la cassetta così Presidente non può strappare nessun tipo di cartaceo. Va bene, no non è così, lo ha meritato, ha trovato la quadratura della squadra dopo un mese, ci ha impiegato troppo effettivamente per le ambizioni che avevamo in inizio campionato, speravo che la quadratura potesse arrivare prima, che i risultati potessero arrivare prima. Adesso siamo al settimo risultato utile consecutivo a dimostrazione che il lavoro fatto in precampionato e quello durante la settimana è la direzione per crescere, far migliorare gli under, abbiamo dei giocatori in grado di cambiare il corso delle partite. Con il blocco dell'annualità con gli under che saranno sempre 2000, 2001 e 2002 abbiamo praticamente l'imbarazzo della scelta e la possibilità di giocare anche con 6 o 7 under ma tutti quanti di qualità, già giocatori fatti e che spero diano all'Avezzano il giusto per ritornare nel calcio nazionale. Uno di questi, Presidente Braghini, che fa? Rimane anche l'anno prossimo oppure le sirene esterne che provengono da altre categorie possono far cambiare idea a questa dirigenza? L'ambizione dell'Avezzano è quella di tenerlo perché vogliamo far crescere il giocatore e vincere il campionato prossimo, qualora non succedesse nulla di importante con un eventuale ripescaggio in estate. E vediamo quello che succede per Braghini, per quanto mi riguarda rimarrà un giocatore dell'Avezzano sicuramente per la stagione prossima, così facciamo finire il liceo classico l'ultimo anno e poi sicuramente cercheremo di trovargli la soluzione migliore. Ma non è detto perché le ambizioni della società sono quelle di tornare in Serie D e cercare comunque di costruire qualcosa di ancora più ambizioso. Grazie Presidente e complimenti ancora. A voi, buon lavoro.